Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 fare attenzione per un veicolo in avaria tra l'allacciamento per la 11 e Firenze Scandici in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Cole Valdelsa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena fino al 28 settembre è chiuso per lavori lo svincolo di acqua calda. Sulla statale 1 Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale 3 Bis Tiberina fino alle 18 di oggi pomeriggio tratto chiuso per lavori tra Canili e Verghereto in entrambe le direzioni. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!